Per fargero oro ovunque, oggi. Come rimita la scia oro buono? Perché quando sei preziosa, quando sei preziosa non ci sta niente da fare butti oro da loro. Per fargero oro ovunque, oggi. Come rimita la scia oro buono? Perché quando sei preziosa, quando sei preziosa non ci sta niente da fare butti oro da loro. Per fargero oro ovunque, oggi. Come rimita la scia oro buono? Perché quando sei preziosa, quando sei preziosa non ci sta niente da fare butti oro da loro.